Mi l'abbia trovata in Guattorelli, 50 anni, carne fresca, ma poi il destino è il cielo. Era diventato un cavo alla piscina. Vedete, questa è la piscina, l'ho avuta io, bella gente, belle tiglie. Ma poi, chi lo pipisce, tu le loro ricanerlo con Casucasio e i compagni e i compagni, mi hanno fregato tutto il progetto. Casucasio, me l'avete fatta proprio brutta. Ma che cazzo dici, questo ricanerlo? Mario, ma quando mi ce l'ha già, sei rossiggiato alla casa tua. Forse, mai. Da me ne vai, va? Alla casa mia! Ma tu sei fuori di te, questa pallonetta. Doppa, tu la mia. Eh? Secondo me, mamma, è il capio mio. Che lì c'è? Abbiamo chiesto a me piangere. Guarda il cello mio. Voi ma, e chi è la pallona, ti? E chi si è andata a casa? Voglio una convivenza, ti? Ma tu mi fai dirvi, guarda. Ma tu non c'hai preso caso solamente a cucina di popolo? Guarda qua, non c'è stato nessuno nel suo paese. Ma l'ho lasciato solo, mezzo all'acqua e mezzo alle porte, con un guadalillo. Ma un guadalillo, lo sai chi ne è? Eeeh, caso caso! Ogni cosa è il culpare della mia, per Dio! Lo sai che bene? Con un guadalillo, un guadalillo, un guadalillo, e tutti i tuoi, che si tirano a sé i pisciatori. Mario! Chef!